Mi chiamo Ludovica Minoli, ho 22 anni, monto a Padova, la scuderia del Santo e mi allena a Sante Bertolla. Da quanto tempo ha montato a Sante Bertolla? Monto con Sante Bertolla da tre anni e mezzo quasi e ho iniziato a montare a cavallo a cinque anni. Ho cinque cavalli, tre che saltano le gare un po' più importanti e due giovani cavalli, uno di cinque e uno di sette anni. Per il 2011 mi piacerebbe riuscire a fare un po' di giri all'estero nelle coppe senior, diciamo come sono un po' i programmi in teoria, sperando che vada tutto bene e girare un po' e iniziare a capire com'è l'ambiente senior. Saluto tutti gli amici della E-Cup. Saluto tutti gli amici della E-Cup.